allora io mi prendo sempre il mio fedele mf che non funziona la mia torcetta che dobbiamo fa geni che ma sta zitto questo qua c'è sempre da parlare un sacco dice sempre purifica l'area rileva la presenza con la candela sfugge al fantasma durante la case di caccia di caccia e questi qua però almeno due sicuramente riusciamo a fare sì 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 oddio sì adesso c'è il così chiama non riusciamo a fare niente sì perché ci una sciotta subito proprio istante allora cerchiamo l'osso sì cerchiamo l'osso lei mi dica se vede qualche oggetto blasfemo ok oh mi sono incastrata dietro la porta ok ok fa madonna che mi avevo già controllato guarda si è manifestato attenzione 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 ecco tre quanto tre tre ecco perché dopo un po rompe lui ha parlato anche il ragazzo ha parlato sì sì boh allora è qua allora facciamo così mettiamo subito la la telecamera qua ma la luce qui dove si accendeva da qua o da sotto no da credo dal garage e luce fu nice ecco le accendiamo qua così di là rimane oh acceso anche un computer l'ho sentito cliccare sulla tastiera eccolo lì pronte tevi è dobbiamo guardare vabbè io scatto e poi dopo spegniamo sì ok perché sennò non non si vede il dozzo ma non vedi che pappa figo ma lei è rosso è rosso sì sono rosso sono irlandese irish che belli i capelli degli irlandesi mamma mia allora ah sta chiudendo la porta eh sì per farci un dispetto tra l'altro non volente non le mi piace come ho messo la telecamera che chiude le porte sì non mi ricordo mai qual è però cioè l'abbiamo anche fatto e rifatto e rifatto ma non mi ricordo va bene allora prendiamo il libro le impronte allora questo lo lascio perché tanto ha parlato allora il dozzo ce l'ho sì e cosa posso prendere ah dobbiamo fare la candela lì allora facciamo così lascio questa un attimo mi porto la candela tanto le luci sono accese ok e vediamo guardo anche se su di lei ci sono le impronte ecco mica che mi ha dato una manata da qualche parte assurdo il ciappetto i fantasmi su il ciappetto fantasmi hanno la mano morta giusto beh c'è posso dire allora andiamo qua a mettere queste si chiude la porta chiusa la porta si apre un portone si ricordi ok qua in pronte non ci siamo spenga la candela signor fantasma genis 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 oh ma è passata nel dozzo passata i donno e so do you remember me dovresti ricordarti di me perché cioè io sono indimenticabile è passata l'hai vista non l'ho vista non l'ho vista bene diamo se perché io c'ho c'è anche tu forse abbiamo la sanità un po e io un po mi salvo con la candela però la candela non me l'ha spenta oh aspetta aspetta deve essere anche io anch'io devo mettere la candela la lascio qua perché sennò non ha senso tiè tiè scrivi ci sei scrivimi senta per cortesia non comincia a cantare le sue canzoni perché mi piace questa canzone è bellissima che cosa è bellissima mi faccio il piacere ma povero nino buonocore non è stato non è stato capito nino chi ha fatto sta canzone è la canzone di nino buonocore ma io boh mi dissocio mi dissocio allora vediamo un po lei dice che è passato nel dolce sì 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 puntato le dolce allora ok poi cos'altro c'era niente ai di una candela fatta dobbiamo purificare l'incenso l'incenso però sì 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 è passata eh sì è passata allora allora adesso facciamo la purificazione hai preso vincenso yes io magari prendi il sale oppure è oppure la telecamera si prendono anche il sale così vediamo se il vret prendono delle camere perché magari attraverso la telecamera come già successo e le sfere quindi le sfere è acceso di nuovo la radio chi è che accende la radio il gin e potrebbe che si nutre si nutre di corrente elettrica ok o queste cose qua ancora sono rimasti è tutti sti simboli qua dietro la pariette non è anche se se qualcuno l'ha fatto sto sto evento o ha scritto su scritto ha scritto me ne sono accorto adesso aspetta no torniamo indietro perché aspetta fammi mettere questa telecamera qua va ora posso mettere ecco sta passando con il sale sale guarda o è il deogeno dai e quindi ne abbiamo solo due allora adesso vediamo di ottenere anche la telecamera andiamo a prendere macchinetta fotografica quindi abbiamo detto dots yes e libro allora prove dots e libro deogeno dai e sarà il dai ora cosa cosa da manca per tutti e due dunque per il deogen manca la spirit box per il dai e la spera di luce quindi io adesso prendo la spirit box questo non spiega come riprendere il crucifisso ecco ok quindi quello l'abbiamo fatto abbiamo fatto dopo adesso con sì ma che c'è scritto sfuggi alla gaccia senza morire perché perché se sfuggi ovviamente ma con il crucifisso no 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 ok ok adesso faccio la foto alle l'alzare alle impronte oh ha riacceso con uno hai rotto i zibidei eh ecco ok faccio sei qui è però ok sei molto attivo mi manca una foto attiva sei qui te list te list dove sei eccolo l'osso oh era lì ma dai tutto in questa stanza genis ma non c'ho più foto però porca quanti anni hai un fiorino quanti anni hai? questa macchinetta è inutile old old ha detto e andiamo volevo incitarla a dirmi quanti anni avevo quanti anni hai? Janice e smettila di correre nel Doz Janice sei qui? old l'ha detto damose 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 prima che chiudi la porta allora e vai e terza prova spirit box sta andando benissimo il Deogen dai mazza stasera veramente stanno a fare i botti di fin anno allora prove abbiamo detto spirit box Deogen perfetto ok te te sfuggi al fantasma vabbè pensa a morire vado 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 sacco di soldi eh sì eh i punti i punti che non servono a niente via sacco di soldi ma i punti non servono a niente però i soldi sì ecco qua vediamo vediamo quindi abbiamo a zuccano mamma mia veramente niente e 235 XP attenzione mamma mia attenzione 205 dollari attenzione damose attenzione attenzione